I nuovi elettori ai partiti più recentemente costituiti avranno un ruolo importante nelle prossime elezioni spagnole. In totale poco più di un milione di giovani andrà alle urne per la prima volta su un totale di 37 milioni di elettori. Sebbene i diciottenni rappresenti in una parte piccola dell'elettorato, influenzano le tendenze e mostrano nuove preoccupazioni. La generazione di oggi è molto interessata all'uguaglianza di genere, ai cambiamenti climatici e al tema della lotta alla corruzione dei politici. Nessun estremismo è buono, le persone sono molto estreme da un lato e altrettanto estreme dall'altro e questo è ciò che mi spaventa. I neoelettori spagnoli si trovano di fronte ad una mappa politica sempre più complessa. Se ci sono più opinioni diverse, ad esempio se i partiti sono in grado di dialogare, alla fine possono rappresentare con i giusti accordi una buona maggioranza. Dobbiamo stare attenti con l'estremismo e vedere dove va la deriva della società, perché alla fine più partiti ci sono e più la società è divisa. E i giovani sono consapevoli dei pericoli di internet. Credo che le fake news siano una cosa terribile per l'intera società, qualcosa che dovremmo combattere. Credo che spesso sia difficile da capire qual è la verità. Se rimani con la superficialità di un social avrai sempre una notizia falsa o che non è così com'è. I sociologi sottolineano che la cosiddetta generazione Z è politicamente più attiva di altre negli ultimi decenni. La loro personalità è così accentuata che contagia anche gli adulti e obbliga a nuove forme di comunicazione politica. Ignachi Ortega definisce questi giovani con quattro I. Uno, internet. Sono nati e sono stati educati a socializzare con internet a casa. Due, irriverenza. Si preoccupano molto poco del potere stabilito e lo contraddicono. Tre, incertezza. Non sanno cosa sarà del loro futuro. Quattro, innovazione. O cambiano e si muovono o non sanno se avranno un futuro davanti a loro. Sono come il mondo in cui viviamo, un mondo molto liquido, mutevole, senza certezza e per tutta risposta sembrano non avere limiti. Entriamo in un partito politico di destra? Grande. Perché no? C'è un partito di sinistra che vuole cambiare l'intero paese? Grande. Perché no? Podemos è stata una delle formazioni che ha cambiato la geografia politica spagnola dopo la sua nascita nel 2014. Cavalcando il malumore degli indignados, nelle ultime elezioni è riuscito a ottenere 71 deputati. Insieme a Ciudadanos, i due nuovi movimenti hanno posto fine all'egemonia degli storici partiti. È vero che ci sono state cose che hanno radicalmente cambiato il panorama in termini, ad esempio, di limitazione dei mandati, esigendo elezioni primarie dei partiti, eliminando i tentativi dei partiti di essere sempre al centro del dibattito politico. Penso che il fatto che ci siano più partiti politici ripartisca in qualche modo il potere, complica le possibilità di accordi e quindi apre il dibattito, genera più dibattito e penso che sia sempre positivo. Tutti i sondaggi danno per certa l'irruzione di una nuova formazione politica, Vox. Sarà il primo ingresso nel Parlamento spagnolo di un partito di estrema destra dal 1979. L'aumento dei nuovi partiti dipende da fattori concreti come la crisi economica o la situazione in Catalogna. C'è da tenere presente che normalmente i nuovi partiti hanno a che fare con momenti emotivi degli elettori. Se l'emozione si perde, il nuovo partito perde sostegno. Nel momento in cui riescono a gestire non solo le emozioni, ma anche la vita politica di tutti i giorni, la loro durata sarà molto maggiore. In una situazione di crisi economica nel futuro, indubbiamente chi ne beneficia sono i partiti tradizionali, in tal caso la destra del Partito Popolare, perché sono percepiti come migliori gestori della crisi rispetto ai nuovi partiti. I nuovi elettori e i partiti più recenti saranno una delle cause di un Parlamento spagnolo ancora più frammentato di quell'attuale. Ma al di là dell'immediato, tutti stanno introducendo cambiamenti nell'agenda politica e stabilendo nuovi metodi di comunicazione. Linee guide che continueranno a devolversi anche dopo le elezioni del 28 aprile. Grazie.